Campionato dei campioni Campionato dei campioni Campionato dei campioni Buonasera a tutti Io vi ricordo che potete iscrivermi al 336-746384 Sulla nostra pagina Facebook Campionato dei campioni Odeon TV Anche su calcissimo.com L'Inter conferma a Zanetti E invece il Milan a scarica Ambrosini Io partirei subito dalla nostra ospite Femminile di questa sera Per parlare un po' di questa riconferma Di Zanetti Arrivata Ce la si aspettava Però diciamo che questo infortunio Aveva forse minato un po' le sicurezze Del capitano Esatto Diciamo che ufficialmente L'ufficialità è arrivata oggi Ma non è mai stata messa in dubbio Non era di fatti pensabile Che la stagione di Zanetti Si potesse concludere in qualche modo Con quell'immagine molto dolorosa Del suo infortunio Contro il Palermo E non ci sono stati ovviamente problemi Tra Zanetti e la società A trovare un accordo Anzi Zanetti avrebbe firmato in bianco Quindi assolutamente nessun problema Di tipo economico Per cui noi ci aspettiamo Adesso chiaramente La ripresa sarà lunga L'infortunio è stato importante E non sappiamo quanto giocherà ancora Zanetti La cosa importante secondo me E' il segnale forte che ha dato l'Inter Di gratitudine Di riconoscenza Assolutamente reciproca Poi nel corso di queste 18 stagioni Quindi una vita Un rapporto d'amore Tra Inter e Zanetti Che non poteva concludersi In maniera così frettolosa Mi sapeteci di d'accordo? Sarebbe stato più facile Non rinnovarlo Se non era infortunato In questo caso era quasi scontato Al di là della bravura Ancora forse di Zanetti Che può dare ancora tanto Visto quello che abbiamo visto Però Tutto quello che ha dato in questi anni Il fatto che sia infortunato Anche se solo a qualcuno Potesse passare Per il cervello di dire Pensiamoci un attimo Ecco Non ci si può pensare Quanto prende oggi Zanetti Tra l'altro Io questo non so esattamente Quale sia lo stipendio Possiamo Lo stipendio base Poi Voglio citare la nostra Francesca Per avere la cifra precisa A via Zanetti Non è bianco nel senso Come dire Quanto meno Sicuramente non meno Di quello che prendeva fino adesso Non è detto Nel senso che comunque Quest'anno Verranno chiamati un po' tutti A fare dei sacrifici Diciamo che ci sono anche Altri ingaggi importanti Da riconsiderare Come quello di Cambiasso Di Milito Che devono ancora essere Discussi Per cui L'economia Nerazzura Al momento non consente Grosse Diciamo Penso che non era Una questione di soldi Anche perché Secondo me Il futuro di Zanetti Io ritengo che All'interno della società FC Inter Si è già ben delineato Nel senso Zanetti Dopo che smetti di giocare Farà un qualcosa In società Adesso Quel qualcosa Non forse l'allenatore Ecco Non lo vedo in campo Uno come Zanetti Lo vedo più A livello di immagine Dirigenziale Però sicuramente Io so che però Francesco Facchini Sarebbe stato contro Il rinnovo Di Zanetti È vero? Ma insomma È vero che È una cosa Assolutamente impopolare Da dire Ci sarebbe stato Comunque lo spazio Il dovere Di fare Un addio al calcio Per Zanetti Come si deve Ma era già aperta La possibilità Per lui Di diventare Vicepresidente esecutivo Dell'Inter Credo che questo percorso Sia già tracciato Moratti lo vuole Al posto E all'operatività Che fu di Facchetti Ai tempi E vuole un'altra bandiera E chi meglio di Zanetti A me Zanetti sta Simpaticissimo come uomo Simpaticissimo come atleta Perché è un grande atleta E ha vissuto da atleta Come forse qualcuno Per esempio Nella Sponda Rossonera Dovrebbe Come dire Dovrebbero prendere gli appunti Andare a imparare No? Come faccio davvero L'atleta Allora andare con Zanetti Sono pochi Alle 8 Va a dormire Alle 22 Zanetti che quest'anno Come ci mostra Francesca Bravissimo Trovarla subito Percepiva 3 milioni di euro All'anno Quindi Ma probabilmente Zanetti avrà firmato Per un rimborso spese Gli pagheranno la benzina Non credo che abbia Bisogno di un ingaggio Pari a 3 milioni di euro Per fare l'ultima stagione Che per lui È l'ultimo giro di campo Non penso che Nemmeno Che farà il titolare Anche perché Lì invece Mi verrebbe da dire E basta Gli anzianotti Devono andare Alle panchine del parco O a guardare i cantieri Fuori dalle reti Cioè Anche nel calcio Bisogna avere E qui Potremmo parlarne Scavallando il naviglio Bisogna avere Il tempo dell'uscita Che è una delle cose Che in Italia Nessuno cianca Cioè Nessuno si dimette E nessuno va in pensione Se non buttato a calcio Ne parliamo tra poco Parlando di Ambrosini Ringrazio la società Almeno a livello di sport E di Vipume Di vertice Di politica Di amministratori Di VIP Senti Zanetti cosa dice Facca Ringrazio la società Per la fiducia Abbiamo parlato a lungo Dell'infortunio E abbiamo deciso Di fare un altro anno Insieme Hanno dimostrato Ancora una volta Di credere in me E nella mia passione Per l'Inter Mi auguro di poter Ripagare sul campo Questa dimostrazione Di affetto Ed istima Nei miei confronti Guarda caso C'è la parola La frase Abbiamo parlato A lungo dell'infortunio Perché forse Quello è stato Il motivo Per cui Come diceva Mattio Ringrazio moltissimi Tifosi Che in queste settimane Mi hanno fatto sentire Il loro amore Conclude Zanetti Sto facendo di tutto Per guarire bene E per mettermi a disposizione Del tecnico E dei miei compagni La parola Zanetti Prima di smettere Il problema si è posto Sicuramente Il parlare Dell'infortunio Era capire Se sarebbe rientrato Proprio per Farlo concludere Come degnamente È giusto che sia Perché nel momento In cui C'era forse Il dubbio O comunque Non la certezza Guarda te lo dico Sai qual sarebbe Il modo degno Di Zanetti Per concludere Fare un cross decente Allora Il giorno che fa Un cross decente Perché credo Che l'ultimo cross decente L'abbia fatto Quando era negli allievi Perché lui Corre Guardandosi I piedi Così E poi arriva Dopo 90 metri Dopo che tutto Lo stadio di San Siro È esploso E ha Vede nero Perché gli vengono Gli scottomi scintillanti Vede nero E evidentemente Non riesce a crossare Perché credo Che abbia un problema Abbia un problema Di quel tipo L'abbia sempre avuto Ma soprattutto Il resto È fenomenale Però È un esterno Dovrebbe crossare Sì Io ho una domanda Chi avrebbe dovuto giocare Quest'anno Al posto di Zanetti Perché effettivamente Non dico che abbia fatto Tutte le partite al top Però Decisamente Non era il peggiore Nell'infermeria Interista Purtroppo Come dire Il gioco A togliere Ha fatto in modo Che Zanetti Fosse sempre Uno dei migliori Poi è chiaro Poi è chiaro Che quest'anno Mazzarri L'ha già fatto capire Chiaramente In conferenza stampa Cioè Ha dei metodi Di preparazione Atletici E un programma Che Voglio dire Porterà avanti Lo porta avanti Da anni È un programma Collaudato E quindi Chi riuscirà Sarà in Diciamo Avrà il fisico Avrà le motivazioni giuste Giocherà sempre Gli altri giocheranno Guarda Se fosse in Zanetti Non mi preoccuperei Molto Perché Una cosa che In questi anni Vabbè Sicuro Prima Non gli è mai mancata È il fatto di correre Sì Essere forse sempre Davanti al gruppo A tirare il gruppo Quindi C'è da faticare Secondo me Lui non ha problemi Anzi Forse Mazzarri ha avvertito Minatoriamente Tutti i vecchi Della serie I vecchi Mi devono dire Se hanno voglia Di correre Questa frase Io me la ricordo Secondo me È il vecchio Che si deve preoccupare Di meno Lui Sì Cambiasso Forse si deve preoccupare Molto Il problema Nasce là Quando Zanetti È stato accostato A saltare La fase di preparazione Atletica Mazzarri Lo intendo Come un allenatore Un po' come la Conte Lo sappiamo Che Per esempio Anche alla Juventus Giocatori che hanno saltato Quella fase Mi viene in mente Isla per esempio Poi alla fine Hanno risentito Ne hanno risentito Tutta la stagione Assolutamente sì Vi mostro Prima di andare in pubblicità Un cartello grafico Che mette a confronto La carriera Di due bandiere Perché ovviamente Stiamo parlando Delle milanesi Si può discutere Diciamo Quanto prestigiosi Possano essere I trofei L'uno e dell'altro Io vi lascio Con questo cartello grafico Perché adesso Andiamo in pubblicità E poi torniamo Per capire Questa brutta Separazione Che ha lasciato Strascichi Venenosi Fra Ambrosini E il Milan A tra poco Gira e rigira Gira rigira in Calabria Ci vuole un attimo Per immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Gira e rigira in Calabria Ci vuole un attimo Per passare dalle coste Sabbiose e frastagliate Al suggestivo Entroterra Godersi le sue montagne Anche in inverno Farsi rapire Dai sapori forti Immergersi Nei colori E nella cultura Del Mediterraneo Questi bronzi di riace Mi fanno proprio Girare la testa Gira rigira C'è sempre un buon motivo Per vivere la Calabria Situato a pochi minuti Dal centro di Legnano E a 30 minuti Dal centro di Milano Il Palace Hotel Legnano È la struttura ideale Per soddisfare i bisogni Di chi viaggia 127 camere Dotate di tutti i comfort Per sentirsi come a casa Dal piccolo meeting Al grande evento Lo staff del Palace Hotel Legnano E del ristorante Alexander Saranno pronti a soddisfare Tutte le vostre esigenze Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo È quello di prenderci cura Dell'ospite All'interno del Palace Hotel Legnano Il centro benessere La Cascata Un gioco di colori Ed emozioni Per rendere unico Il vostro soggiorno Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo Il nostavo Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra, godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Allora per un capitano che prosegue la sua avventura con la maianera azzurra a Viesanetti c'è un capitano che invece interrompe la sua lunga militanza rossonera ed è Massimo Ambrosini. Cristian c'è solo un capitano che recita la nostra grafica, forse per il Milan non può dirsi così. Che cosa è successo in realtà tra Ambrosini e la società? Io ho aspettato, io ho sentito parlare questo primo blocco perché è stato abbastanza, come dire, un paio di giorni un po' così perché va bene, non posso nasconderlo, è stato un atteggiamento molto facile da dire non da Milan ma in generale è stato un atteggiamento proprio che non è esistito nella maniera più assoluta. Basti pensare, l'anno scorso, ricorderete l'ultima giornata di campionato quando c'è stato il saluto allo stadio di Ninesta, Inzaghi, Gattuso, poi addirittura Sedolf che non si era ancora deciso fece una conferenza stampa, inviaturati, sala dei trofei, giornalisti eccetera per un giocatore che si è fatto la storia recente del Milan però di fatto non è mai stato capitano, non ha comunque giocato per 18 anni nel Milan quindi va bene che in questo momento l'amministratore delegato è impegnato nella crociera abituale rossonera però un addio così è stato effettivamente un addio come dire molto deludente, molto deludente come atteggiamento da parte della società e poi è chiaro comunque è stato chiaro fin da subito che comunque le parti non erano d'accordo anche perché comunque Moreno Roggi che la gente di Ambrosini aspettava la chiamata da quando ci fu la chiamata per Abbiati e per Bonera poi magari dopo ne parleremo un po' più nello specifico nel senso che fondamentalmente all'inizio già si aspettavano che Ambrosini non venisse chiamato per rinnovare, quando c'è stato il rinnovo per Bonera però invece anche il rinnovo per Ambrosini si è un po' più avvicinato, poi se vuoi ne parliamo dopo meglio. Queste sono le parole intanto amare della gente di Massimo Ambrosini che dice dopo Siena venne chiamato Bonera per rinnovare il contratto come dicevi tu Cristian e subito dopo anche Abbiati, quindi già si sapeva che Massimo non avrebbe rinnovato, ieri lo abbiamo saputo ufficialmente, sostanzialmente era una situazione già chiara, magari questa ufficialità poteva essere data con maggiore riguardo verso chi è stato il capitano del Milan, quindi ovviamente è inteso anche un addio come si deve, come la sua carriera meriterebbe, invece Ambrosini l'ultima apparizione con il Milan risulterà essere quella di Siena con peraltro un'espulsione, quindi diciamo non il miglior modo per chiudere questa stagione. Continua l'agente di Ambrosini dicendo Massimo ha aspettato il Milan fino alla fine, non è stata una scelta consensuale, lo ha deciso la società in maniera unilaterale, ora Ambrosini è un giocatore libero sul mercato. Mi ricordo un po' la situazione di Pirlo, e c'erebbe un altro colpo alla Pirlo, perché prima leggevo il discorso di Bonera, io mi ricordo che prima in quel periodo c'era la voce, interessamento Juve Bonera, quindi... Però è molto diverso, nel senso che comunque lì c'era già un'offerta pronta, un triennale da 4 milioni qua, parliamo comunque di un giocatore che prendeva un milione. Ti volevo dire, era un modo per depistare, dire guarda Juve cerca Bonera, allora il Milano, facciamo il contatto a Bonera, però il vero obiettivo magari è Ambrosini, e si porta a casa Ambrosini, un altro colpettino alla Pirlo, giocatore che secondo me può dare ancora, se usato nella giusta dose, però le scelte del Milano ultimamente... Facchini, mi dici non a caso ha citato Andrea Pirlo, è forse proprio da lì che sono iniziati un po' gli atteggiamenti discutibili, chiamolo così, del Milan nei confronti delle sue grandi stelle, dei suoi grandi giocatori che hanno segnato un'epoca, quella rossa-nera. Dico una cosa pro e poi le dirò tutte contro. Ci prepariamo. La cosa pro è che lasciarsi quando ci si è amati molto è sempre brutto, che tu sia stato 18 anni, 15 anni, 3 anni, 7 anni, ma se ti sei amato molto, se ti sei... se hai passato una vita insieme e lasciarsi... è sempre... non si riesce mai a lasciarsi nel modo giusto. Le cose contro sono talmente terrificanti... Ah, era solo questa la cosa... Sì, era questo intro romantico... Anche perché cose pro... Ah, ok, ok, devi partire tutte contro allora. Le cose contro... Le cose contro... Io credo che nel Milan si stia verificando un'involuzione dal vertice della società in giù terrificante. Ho visto il susseguirsi di prese di posizione, prese di possesso e di potere per le quali... A. Il presidente ha ricominciato a dettare legge e adesso lo fa allo scoperto ed è terribile. Io credo che sia terribile perché destituisce di qualsiasi potere tutti quelli che gli stanno sotto. B. Il tecnico è diventato un passacarte, ok? Il tecnico in questo momento, sapete dov'è? È in crociera. Sapete se parla? Non ha parlato più. È sparito dalla circolazione, dai radar. L'ultima volta che mi ha detto qualcosa, nel senso che ho sentito le sue parole, era fermatevi perché sennò finite sotto una macchina. Per capire, no? Dopo un caffè. Dopo un caffè, ecco. Ma per capire cosa sta succedendo, no? Poi scendiamo, andiamo giù in mezzo alla rosa e finiamo a un Ambrosini che viene liquidato manco fosse il peggiore degli stegisti a contratto. Il peggiore degli stegisti, neanche un cane di stegista viene liquidato in questo modo. Ma perché nessuno fa un picchetto fuori dalla via Turati a dire scusate, ma vi siete ammattiti tutti quanti? Cioè, ma qual è la prossima mossa? Come uso dire io, il venerdì pomeriggio il presidente telefona detta alla formazione, il sabato mattina la rifinitura, Allegri va col pizzino e dice tu giochi perché c'è scritto qui tu no, tu sì, tu no. E poi? E poi veniamo al Sharawi e poi facciamo di tutto. E poi, e mi piacerebbe parlarne, facciamo in modo di intristire questo già triste mercato andando a fare i bisticci alla Juve che sta prendendo Tevez. Perché è questo quello che sta per fare. Lo anticipiamo però, le mosse di mercato, perché ne parleremo molto durante il corso della puntata. Cristian, rimanendo su Ambrosini, Facchini lanciava la provocazione, perché non un picchietto? C'è stato un picchietto per Allegri? Ma io rispondo molto velocemente, punto a punto, cari amici, nel campionato del campione voi conoscete Facchini, ma un po' tarate anche chiaramente le cose che dice. Non dare sottotitoli, di la tua, Bratelli, di la tua, che l'hanno bisogno dei tuoi sottotitoli. Sul primo punto mi stupisce che ci sia questa preoccupazione o questa notizia per cui adesso c'è un presidente che di fatto prende decisioni e che destabilizza tutti i suoi sottoposti quando c'è una squadra di Milano che lo fa abitualmente da 18 anni, quindi in un'altra squadra, quindi non vedo che ce n'è uno, ce ne sono due. Lo fanno tutti, lo fanno tutti, lo fanno tutti, questa nu entri nel calcio, questa nuova entrata di modo di gestire la società. Cioè tu stai giustificando in un carcere e ci sono gli omicidi, ma qui lo fanno tutti, ammazzano tutti e ammazzo anch'io. Questo modo di gestire una società nel calcio per cui è nuovo, non si è mai visto. Seconda cosa, Allegri è andato benissimo avanti a parlare anche in Cruciera, oltretutto poi non so Francesco se tu non l'hai sentito, però di fatto comunque ha parlato e è andato avanti a dire quello che ha sempre detto come da prima della conferma, anche dopo la conferma. Terza cosa su cui sono d'accordo con te. Dimi i concetti perché io non li ho sentiti, vado sottotitolato e non li ho sentiti. Lo sai che gli allenatori quando parlano i concetti sono sempre abbastanza ricolati, cioè non è che Allegri è molto diverso da tanti altri allenatori, sempre per fare paragone. Sulla terza cosa sono d'accordo, nel senso che è stato un atteggiamento che non esiste nella maniera più assoluta e quello che appunto volevo dirti prima Andrea era legato al fatto che fondamentalmente già si sapeva al Milan che solo un difensore tra Bonera e Iepes avrebbe rinnovato. Nel momento in cui è arrivato il rinnovo di Bonera, che qualcuno potrà anche dire fomentato dal fatto che altrimenti Bonera se ne andava alla Juve, quindi per non ripetere il discorso Il discorso di dirlo, Ambrosini pensava che a quel punto anche lui avrebbe rinnovato e invece di fatto è arrivato solo il rinnovo per Bonera, non è arrivato quello per Iepes e non è arrivato anche quello per Ambrosini. Prima della risposta alla stilettata di Christian da parte di Sabine, sentiamo da casa cosa ci dicono, Francesca. Sì, alcuni messaggi da casa. Che delusione, il Milan senza rispetto, confermare un inutile personaggio come Allegra e scaricare invece un simbolo come Ambro. O ancora, Ambrosini è bollito, lo dico da milanista, l'ho apprezzato nei suoi anni del rossonero ma ormai è un'età che non gli permette di reggere una partita dall'inizio alla fine, abbiamo bisogno di forze fresche e basta con i vecchietti. O ancora l'ultimo, proprio dalla nostra pagina Facebook, Matteo ci dice, la società Milan deve mostrare maggior rispetto per Ambrosini, l'addio ci sta, ma andava fatto con modalità diverse, una bella conferenza stampa o di fronte al pubblico di San Sino come è stato per molti altri. Nel merito ha ragione, poi di fatto nel metodo... Intanto Ravino Raio l'annuncia Iberrest al Paris Saint Germain, poi bisogna vedere, quanto poi... Di solito, quando lo dice vuol dire che... Sabine, questa piccola frecciatina nei confronti di voi interisti, 10 secondi di risposta. Sì, io volevo dire una cosa ancora, tornando alle bandiere ai capitani, visto che stavamo parlando di quello. Sicuramente Milan non ha usato i modi migliori, è lungi da me a difendere l'atteggiamento perché è un po' discutibile, però anche la Juventus, se vogliamo vedere, verso un grande capitano non ha avuto un grandissimo atteggiamento. Ce lo stiamo dimenticando... Ma Del Piero è stato scaricato. Però mi passate la palla, è quello che dice l'Inter. Io mi ero già espresso su Del Piero, non ho condiviso non tanto i modi, ma neanche la comunicazione. Secondo me c'è stato un qualcosa che nessuno sa, lo sanno solo. No, no, ok. Si è visto, la scarabussa si è vista. Faccio proseguire, dopo la vicissà perché bisogna correre, torniamo facendo concludere gli interventi dei nostri ospiti, anche il mondo di internet, i compagni di Ambrosini come hanno reagito e poi tanto calciomercato, tra poco. Salve, sono Andrea Zironi, di Studio 18 Carati. Mi siete mai chiesti perché oggi conviene investire in oro? L'oro fa parte dei grandi valori. È un investimento alternativo, non ha costi aggiuntivi, è esente IVA ed è anche facile da monetizzare. È un valore concreto che si tocca e che potrete sempre portare con voi. Volete saperne di più? Parliamone. Studio 18 Carati, la nostra consulenza vale oro. My Dog My Cat My Girl My Family My World Mi piace pensare in grande Mi piace MyBet MyBet.it Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose frastagliate al suggestivo entroterra, godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Mr. Medici stava concludendo l'apparente sui atteggiamenti discutibili della città verso le bandiere. Una grossa differenza, nel senso del Piero lo si sapeva già prima dell'ultima partita, l'ultima partita ha giocato, ha fatto la sua passarella finale, tutto lo stadio per lui eccetera. Io su quello che hanno fatto del Piero non ho condiviso quest'anno, quest'anno mi ha dato molto fastidio a me il fatto che lui non sia stato invitato alla festa Scudetto, non è stato invitato allo stadio, questo sì, ma non come è stato gestito il suo addio alla Juventus. Poi se vogliamo vedere che tutti pensavano di vedere del Piero ancora alla Juve, contratto, poi le decisioni vengono prese in due secondo me. Andiamo a vedere come i compagni hanno salutato, questa è ovviamente la home page del Milan che con un comunicato alquanto conciso, Ambrosini. Mi raccomando non esagerate le parole. C'è un video... Vediamo le parole di Galdiani che dice appunto mi dispiace molto salutare Ambro. Sì, me l'ho detto solo, questa è veramente la sintesi. Non è pensabile adesso. Questo è uscito il mio. No, questo è il sommario delle notizie. Del video che poi apparsa, giustamente. Mentre i compagni comunque sia sono stati più affettuosi, questo possiamo dire. Molto più affettuosi. Infatti su Twitter vediamo Montolivo che gli scrive è stato un onore averti come compagno di squadra, mi mancherà. In bocca al lupo capitano 23. Montolivo ha scritto durante la partita di Haiti? Cioè dove giocava direttamente da Rio? Beh, secondo me sì. Sì, esatto. Ancora l'ultimo bojan, vediamo su Instagram che pubblica una foto col capitano e scrive un forte abbraccio al grande Ambrosini, mi considero molto fortunato per averlo conosciuto e giocato con lui. Buona fortuna amico, grazie Ambro. Destino uguale se non vi adorare. Brava, Francesco ha scopato un nuovo social network da mostrare in Instagram. Beh, giusto perché ci sono molti i giocatori presenti. Con Bojan e Kirchic. Anche su questi social network. Sì, Bojan è forse più presente su Instagram che in campo. Che in campo. Comunque sia, parliamo a proposito di attacco del Milan. Parliamo di El Sharawi. Perché... È in vendita. È in vendita. Perché tu sei in vendita anche tu? Perché secondo me sei in vendita anche tu. Perché... Siamo tutti in vendita. Giustamente, come dice Facchini, che si riferisce alle parole di Adriano Gagliani proprio da quella stessa nave della crociera dalla quale ha salutato Ambrosini, anche El Sharawi parrebbe sul mercato. O almeno. Quali sono le parole di Adriano Gagliani, Cristiano? Sì, nel senso che è stato chiaro. Ho detto che comunque di fatto rispetto al passato non si può più pensare di giocatori intoccabili. Ha maggior ragione adesso comunque che il Milan non ha un po' magari... Forse sì chiaramente Mario Balotelli, però comunque di top player come si intendeva negli ultimi anni. Quelli che insomma cerca la Juve come dire per rinforzare la sua rosa e di conseguenza anche El Sharawi di fatto va sul mercato. Il problema non è che El Sharawi va sul mercato, Gagliani è stato molto chiaro. Il problema è che in questo momento se vuoi comprare devi anche vendere e l'unico che ha del mercato di una certa elevatura è El Sharawi. Perché il Milan sarebbe già pronto ad aver messo le valigie, vabbè Robigno che è una situazione particolare e fondamentalmente o va al santo o su niente. Il problema è che il designato ad andare via è Boateng, però Boateng non ha una mezza offerta che sia mezza. Al di là, al netto delle difficoltà economiche che lo sappiamo, nelle quali versa il nostro calcio, un talento come Stefano El Sharawi tu lo venderesti? A 40 milioni di euro sì, ai soldi che si dice, io lo porterei. Mi ricordo che avevo detto quando Real Madrid ha preso Zidane per 100 milioni delle vecchie lire, l'avrei portato, Zidane era il mio idolo indiscusso, però lo portavo. Ci sta, ognuno ha il suo prezzo, con 40 milioni il Milan… ha fatto tutto quello che doveva dare. Sì, ho fatto l'esempio, però hai soldi… Non abbiamo ancora visto chi è e pensa che ha segnato 16 milioni. E ti danno 40 milioni, io lo darei subito. Sabine, l'Inter, diciamo che forse non era la stessa caratura di giocatore, però anche l'Inter è stata una società, quantomeno l'anno scorso, che si proponeva come lanciatrice di nuovi giovanili talenti, però per esempio mi viene in mente Coutinho, un giocatore sul quale si è appuntato molto inizialmente e poi dopo ceduto. Anche tu sei d'accordo con l'accessione del Ciaravi per queste cifre, secondo te questi talenti, almeno quelli che produciamo in casa nostra, vale la pena investirci? Eh sì, secondo me certo, 40 milioni, se è vera l'offerta, sono veramente tanti soldi, soprattutto nel mercato italiano che non ne vede, diciamo, di contanti. Il problema è che comunque dovrebbe essere considerato un fallimento, perché il fantomatico progetto giovani poi viene davvero a cadere. Il Milan, diciamo, a parole ha speso molto per promuovere questa linea e Ciaravi ha tutto da dimostrare, effettivamente qualcosa ha già fatto vedere, però è molto giovane. È un rischio secondo me venderlo. Secondo me c'è anche il discorso che da quando è arrivato Balotelli il pensiero della società era che comunque i due giovani potevano fare coppia, cosa che invece non è stato. Si è visto che in campo comunque Ciaravi è stato quello che ha sofferto di più, la personalità o l'esegueranza di Balotelli. No, no, perché è stato collocato. Ma no, ma va bene. Perché sto ragazzo ha fatto il terzino e l'ha fatto con l'onestà. No, certo, ma quella era la sua posizione in campo, cioè prima che dopo non è cambiata. Perché gli ha detto vai lì e lui è andato lì. Ma non è cambiata la posizione in campo. È che le attenzioni sono state diverse da quando è arrivato Balotelli. Se prima Ciaravi giocava 100 palloni in una partita, con Balotelli ha cominciato a giocare Io credo che il discorso è anche un altro. Quindi lui ha sofferto molto. No, scusami Mattia. Lo vedevi anche nel momento in cui veniva sostituito, magari non partiva, era sempre abbronciato, era sempre in panchina. Ma è la colpa di chi è? Cosa dobbiamo fare se siamo arrivati a venderci anche i gioielli della nonna e abbiamo le pezze al di dietro? Cosa dobbiamo fare? Il discorso sia anche un altro. Cioè il Milan comunque quest'anno vuole far partire il mercato in un certo modo che sarà diverso da quello dell'anno scorso. Se in questo momento, come è vero, chi ha solo un certo tipo di mercato è il Ciaravi, per cercare di buttare anche solo l'amo, poi è chiaro che lui deve dire che nessuno è incedibile, perché dal momento in cui tu già dichiari è il Ciaravi fuori dal mercato, il Milan non parte col mercato, perché il Milan non ha un giocatore, tolto chiaramente Balotelli che non è stato detto ma non è sul mercato, per cui una società, una società estera, una società italiana, viene e ti dà almeno 20 milioni. Voi ditemi in questo momento il giocatore del Milan fuori è il Ciaravi che vale almeno 20 milioni. Non c'è. Quindi tu dici che è più un sacrificio? No, è un sacrificio che non è detto che poi diventerà tale. Cioè secondo me per cominciare a buttare qualche amo e cominciare a parlare di mercato, possiamo chiamarlo, non so, neanche di pistaggio. Cioè secondo me è una frase come tante che poi sappiamo che vengono dette spesso l'Adriano Gagliani, per cui almeno vengono messi degli accenti e anche riaperte, dei discorsi, non è un caso che riviene fuori il discorso Tevez, per esempio. Ne parliamo tra poco però, non anticipiamo. Ho due aspetti da approfondire su il Ciaravi. Il primo, quello che ha lanciato il Ministero Medici secondo me è un messaggio importante, Facchini. Tra il Ciaravi e Balotelli a questo punto il Milan, se vuole cedere un giocatore, preferisce a questo punto vendere al Ciaravi. È giusto, alla luce della stagione che hanno svolto entrambi i giocatori, ma anche dal punto di vista comportamentale, anche dal punto di vista dell'affidabilità da qui in avanti, sacrificare uno come è Ciaravi davanti a Balotelli? Assolutamente no, perché uno è il prospetto di un fuoriclasse, l'altro è quello a cui mancano sempre mille lire per fare un milione nelle note in cui va fatta la storia e mi riferisco a Mario Balotelli che non è un campione, non è un campione fisicamente bravissimo, assolutamente fa venire l'orticaria. Se io fossi un suo compagno probabilmente verrei alle mani dopo cinque minuti, perché non la passa mai. Lui non contempla un gioco di squadra, lui contempla prendere la palla e sfondare la rete. Lui sta cercando di lavorare molto più quello, secondo me. Ha questo tipo di atteggiamento. Poi è una notizia vivente, e mi dispiace per lui, ha attorno un circo Barnum che gli dice di fare la notizia vivente e che sta facendo in modo di distruggere le possibilità che diventi un campione. Detto questo, se a loro fa piacere avere uno che vende le magliette, si accomodino pure. Se vogliono fracassare definitivamente quel campione che è, e sicuramente diventerà in qualsiasi altra squadra, il Sharawi, si accomodino anche. Però Francesco, qua non è il discorso di scegliere tra Balotelli e Sharawi. Beh, noi mi hanno fatto quella domanda. No, ma c'è la sua, non ho bisogno di sottotitoli. La domanda era su e Sharawi, e quindi fondamentalmente se Gagliani risponde ad una domanda, come tu rispondi alle domande di Eusebio, chiaramente Gagliani risponde alla domanda e risponde ai suoi Sharawi. Ricordiamo poi che l'operazione Sharawi con l'operazione Balotelli è stata molto più diversa e quindi pensare anche solo di mettere su un mercato un giocatore che è arrivato a gennaio, francamente, ha ammesso che secondo me non andrà via nessuno di due. Non voglio dire, secondo me no, perché non Balotelli, no? Secondo me no. Ma io parto dal prossimo episodio. Allora, la domanda Balotelli sarebbe incedibile e avrebbe risposto alla stessa maniera. Qualche piccio che ti dà 40 milioni lo provi. Gagliani, ci ho detto che non andrà via nessuno di due, poi se volete firmiamo. Allora, io vi lancio adesso un'altra domanda a cui risponderete tra poco, perché come suggerisce Stefano Peduzzi in coordinamento con questo titolo, anche Prandelli rinuncia al Faraone. Fac, tu prima hai parlato di tempi di entrata, tempi di uscita, forse l'entrata, il tecne, l'inscivolata di Gagliani su El Sharawi potrebbe avere delle conseguenze anche immediate, perché Prandelli pare intenzionato a lasciare fuori il Faraone anche dalla Confederations Cup. Ne parliamo tra poco. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate, al suggestivo entroterra, godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. My dog My cat My girl My family My world Mi piace pensare in grande My style My bet My bet.it Passione italiana Affidabilità tedesca Grazie a tutti. 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 Non si parla di lui, come è successo magari per tre mesi, per quattro mesi da agosto a dicembre. Quindi sicuramente è deficitare da quel punto di vista. Il discorso di Prandelli secondo me è diverso. Io approvo, anzi mi piace questa idea di avere due centrocampisti con corsa che si inseriscono dietro a un giocatore come Balotelli che ha molta tecnica e che possa anche aprire degli spazi. Sono i risultati. Certo che se giochiamo come contro Haiti possiamo giocare anche col 7-7-7. Eppure è molto il vino che manda il tuo intero col portiere. Sabine, secondo te la nazionale può risentire innanzitutto di queste voci di mercato? E poi in una parte speciale, il Sharawi doveva forse essere, almeno fino a qualche mese fa, lo davamo tutti come la rivelazione. Colui il quale alla Confederations Cup mostrava l'Italia al mondo da certi livelli. Sì, e poi all'inizio insomma quando Balotelli era arrivato al Milan avevano giocato tanto sulle due creste, su diciamo i giovani, l'attacco giovanissimo. È chiaro, vedendo anche pezzi di partita di ieri che secondo me il Sharawi in qualche modo risente emotivamente. È in difficoltà. È in difficoltà sì, sicuramente. Perché poi è un ragazzo giovane. Non è solo una tifosa nera azzurra, ma ha anche gli occhi azzurri. Per favore, ve lo devo dire io. Nera azzurra. Vedi a volte ce l'ha delle vene romantiche, Facchini. Rare, rare. Sei un po' spaventato Cristian. Allora parliamo proprio con Cristian di Tevez però, perché giusto per completare l'argomento al Sharawi non si può non citare Tevez in quella che potrebbe essere una trattativa, diciamo concreta. Con Creta è arrivata già un'offerta, un fax a inviaturati con Tevez più 25 milioni di euro per il Faraone. Gagliani ha dimostrato comunque di aprire questa possibilità. Il Milan ci perderebbe, Cristian? Ma io parto a presupposto che non credo molto allo scambio. Quindi anche più 25 milioni comunque non credo che... Cioè credo che se il Milan arriverà a Tevez arriverà prendendolo indipendentemente dal Sharawi. Prima di ogni cosa. Seconda cosa, è chiaro che messa giù così, bisogna valutare che vendi un ventenne di ottime speranze, prendi comunque un ventinovenne, quasi trentenne, che al di là che si parla di due ruoli completamente diversi, in principio di un anno che vedrà comunque un cambiamento del modulo, perché passeremo fondamentale... Cioè è già stato chiaro, pontificato... Stato ordinato da... Esatto, esatto. Da 433 al 4312. E quindi a quel punto bisogna anche vedere... Io, per come conosco a lei, non mi stupirei anche che nel caso in cui arrivasse Tevez e rimanesse Sharawi, potesse anche provare Sharawi trequartista, e non arrivasse più un altro trequartista, perché nel senso siamo stati anche abbastanza abituati a, come dire... Innovazioni tattiche, esatto, infatti, no no, ma io sosterrei eventualmente questa scelta. È chiaro che messo sondaggio Farone e Tevez così, nel senso, devi valutare... Tutto sport, molto vicino alle dinamiche della Juventus, lo sappiamo, si è parlato di Tevez prima di Juve e poi di Milan in questo calcio mercato, che è soltanto in inizio, ricordiamolo, poi si chiuderà il 2 settembre la finezza di mercato, quindi ce ne sarà da parlare, però tutto sport, dice, Tevez è fedele a se stesso, ironizzando, doppio sì a Milan e a Juve, quindi Tevez diciamo che si è già, ha già dato la disponibilità comunque per un trasferimento in Italia, che sia a Milano, che sia a Juve... Se viene in Italia, viene qua, cioè, scusate, viene a Milano, siamo a Milano, esatto, qua, esattamente a Milano. Possiamo fare una provocazione, posso chiedere a Francesca se trova una foto di Tevez? Mi ha fatto un primo piano di Tevez, perché mi piacerebbe capire come, come, Gagliani o chi per lui può andare da Tevez e dirgli Carlitos, ti devo parlare. Già Carlitos, Carlitos way. Io tengo a dirte una cosa, no? Tu, ti ricorda che hai 8 milioni di euro puliti di stipendio? Ecco, no. Ma secondo voi, Carlitos, che cosa risponde? Hanno già parlato l'anno scorso, io ricordo se che hanno parlato, anche Moltos. Lui, no, questo qui, è uno a cui tu, miralo, io lo miro, conosco molto. È uno a cui tu puoi andare a dire, no, guarda, tu non guadagni più 8 milioni di euro netti a stagione, ne guadagni 4, 4 e mezzo. Se sei buono, 5 con i premi. Lui vi dice di sì? Ma che ne ha di contratto con Manchester? Ricordo che si libera a Romino 6 milioni e mezzo di ingaggio in meno. Francesca, tu che sei la regina della movita milanese, e lasci incontrare El Sharawi o Tevez, chi preferirà si incontrare? Che bella domanda. Io ho già incontrato El Sharawi, e vincerei El Sharawi, se ne vuoi essere sicura. E' sicuramente una qualità sportiva. Ma se l'incontri in un vicolo buio, gli dai il portafoglio, gli lasci il banco, come attaggia il bambino, e te ne vai. Abbiamo un cartello grafico proprio su questa possibile trattativa. Lo dico così, specialmente per scherzare. Faraone, Tevez, la gente. Vediamo cosa dice il procuratore. Ma chi? L'iraniano? No, quello di El Sharawi. La Florian. Sol Sharawi ha detto tutto galliani, non c'è altro da aggiungere, l'amministratore delegato del Milan è stato chiaro, è abbastanza chiara la situazione, noi ci rimettiamo a quello che sostiene la società. Quindi, Cristian, c'è comunque anche la volontà di non legarsi al Milan così fedelmente come pareva essere, quantomeno fino a gennaio. Ripeto, il finale di stagione, il Sharawi ha pesato tantissimo. Lo vedavamo che gli pesava tantissimo. Ma è pesato anche a noi, nel senso che comunque di fatto è una seconda parte di stagione, non è stata chiaramente a pari della prima parte per vari motivi. Bisogna anche capire se la prima parte è avere... Ma come mai dici noi? Noi, forse parlo... No, parlo noi a livello di milanisti, di addetti ai lavori, ma anche milanisti. Ma c'è anche di tutti i sottotitoli pure solo io? No, no, ci abbiamo tutti i sottotitoli, io vedo tutti i sottotitoli. No, perché io qualche volta no il plurale mai stati. Quindi, secondo me, uso questo nome per identificarvi nel Milan. Lui vorrebbe anche. Eh, caro te, sì. Lui vorrebbe, nel senso... Non al sito, non al sito. E' proprio dispiaciuto di andarsene. Secondo me, Porta Ernesto è molto concetto di andarsene. La stampa britannica affermava che queste parole di Gagliani sono state accolte alla grande dagli emiri del Manchester City. No, proprio ieri, tra l'altro, è venuta fuori una notizia dal Free Press Metro inglese dove parlava anche... Si parlava anche di Arsenal e, per esempio... Attenzione. L'Arsenal... La foto Galleotta. Per lui, eventualmente, l'Arsenal... Sono le fravi. Ah, però che meraviglia. L'Arsenal, a proposito, eventualmente ci sarebbe un'età molto più... molto preferita, insomma, rispetto al City, per esempio. Però, io vorrei fare una domanda. Sì. Adesso prima parlavamo di cifre. Ma può essere che per i Sharawi una società possa spendere 40 milioni di euro? Eh, si parla tanto di giovedì, 30 milioni di euro. Esatto. Sono un po' troppi. Comunque è un giocatore che ha un po' quasi l'esperienza. Quella lì, sì. Sono due giocatori diversi, però, eh. Uno che ha un anno di Serie A, uno che ha già dimostrato. anni in Serie A di starci non bene, alla grande. Quindi sono due giocatori completamente diversi. Quindi, proprio perché allora... Allora si tendono a supervalutare molti giovani. Giusto perché Jovetic 30, cioè, e Sharawi 40 è la sua valutazione. Per quello allora possiamo dire, portiamoglielo. Cioè, prenotiamo l'aereo e portiamoglielo se con la cifra. Sabine, tu da interista, come la vivi questo grande chiacchiericcio su questi nomi? Tevez da una parte, Sharawi dall'altra, Jovetic, l'Inter, stanno facendo un po' le cose... Mi stai dicendo che non stiamo facendo mercato. Non lo so, lo chiedo io a te. No, chiaro. No, stanno facendo mercato. Ha riconfermato Mazzanetti, Cambiasso, Samuel. E' il momento... La lasci parlare. Scusa, scusa. Grazie, niente. Per me di cortesia. Il momento Nerazzurra è complicato. Questo è innegabile, nel senso che paghiamo anche il cambio di allenatore, per cui tante scelte adesso devono essere riviste. Mazzarri deve vedere i suoi punti fermi. Poi ci sarà il ritiro, però ovviamente prima che arrivi il ritiro bisognerà fare mercato, bisognerà cedere dei giocatori. Quindi siamo nella fase che sembra molto di stallo ed è una fase di valutazioni, sostanzialmente. C'è un po' preoccupata? In ambito calci mercato? Preoccupata sì, nel senso che poi bisogna vedere anche i cedibili, perché ovviamente i giocatori cedibili sono i giocatori migliori che hai, sono quelli che hanno più mercato. Guarin, Ranocchia. Esattamente, quindi Guarini in particolare, che a me come giocatore piace moltissimo e non ha avuto una stagione brillante al 100%, bisogna capire se rientra nei punti fermi di Mazzarri. Poi c'è una domanda a cui vorrei una risposta secca, perché poi andiamo in pubblicità. Loro fuori classe l'hanno preso, l'allenatore? No, è il Cardi. Sui Cardi sicuramente. Domanda secca, secondo te con tutta questa attesa Moratti rischia di perdere il treno Tohir, sì o no? No. Ok, tra poco parliamo di Juve invece, l'attacco bianco-nero, ci sono novità. Tra poco, dopo la pubblicità. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra, godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno. Farsi rapire dai sapori forti. Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Gira e rigura c'è sempre un bel ça. Salve, sono Antonio. Andrea Zironi di Studio 18 Carati. Mi siete mai chiesti perché oggi conviene investire in oro? L'oro fa parte dei grandi valori, è un investimento alternativo, non ha costi aggiuntivi, è esente IVA ed è anche facile da monetizzare. È un valore concreto che si tocca e che potrete sempre portare con voi. Volete saperne di più? Parliamone. Studio 18 Carati, la nostra consulenza vale oro. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci in studio per parlare di Juventus perché questo titolo, non so, dei frequenti deja vu ogni volta che vedo questo tipo di titolo. Punta Cercasi, chi deve prendere Marotta. Allora, passano gli anni, mister Medici. Questa è una grafica del 2005. Questa è una grafica, esatto. Stefano Peduzzi l'ha rispolverata dopo due anni, tre anni. Mi ricordo già che i video. Giornate le maglie però, sono giornate le maglie. È vero, di maglie parliamo, attenzione, state con noi. Allora, che idea ti sei fatto? Chi vorreste questo punto avere? Perché comunque, Higuain, Tevez, Jovetic, arriverà qualcuno. Se io devo scegliere tra quei quattro, vabbè, io prenderò Jovetic. A me piace più Jovetic che gli altri due. Higuain, secondo me, non è che non sei un buon giocatore, non fa caso la Juve. Tevez, no, non mi dice niente. Jovetic invece mi piace tantissimo. Io l'ho visto giocare anche dal vivo, un giocatore che sposta gli equilibri. Si è messo nelle condizioni di poter dare il meglio, è uno che fa la differenza. Io fossi la Juve. Ecco, guardiamo qua un po' questo riassunto grafico. Penso che l'indicazione che possa dare Conte è quello di cercare di prendere delle punte per poter l'anno prossimo fare un 4-3-3. Perché se no... Quindi tu dici Jovetic viene... Con 4-2-3 o come ha fatto quest'anno, avere la possibilità tenendosi a Pogba che Vidal, mi auguro di non mandar via nessuno, giocare con la mezza che Marchisio può fare. Beh, ci ha preso Lorente, a me Lorente piace tantissimo. Ho capito, però a me piace, è un'incognita però. Jovetic ce lo può fare, Jovetic ce lo può fare. Come dire big in Japan. No, ok, per i soldi che ci sono quelli possono arrivare, il discorso è quello. Siccome Jovetic ce lo può fare, come no? Manca veramente... Jovetic ce lo può fare, a me piace. Non lo è neanche lui, allora devi prendere Ibra, nella speranza che abbia voglia. No, il problema è che per una squadra che sempre si è basata sul, come dire, sul nervo e in due anni senza un puntone, prima o poi si usureranno pure, in qualche modo, e quindi ci sarà bisogno di una punta di questo genere. Anche perché in giro, adesso abbiamo visto quei quattro, in giro c'è altro? Eh certo, questo è diciamo quello che passa al commento. No, perché se c'è altro, vediamo, non c'è altro. O hai i 50 e 60 milioni da dare, come ha fatto il Monaco, che oggi ho letto anche ha fatto una super offerta per l'Istituto Ronaldo. Sì, ha fatto un po' di pacchi di... Esatto, no? Eh però, a Madrid. Quei soldi non ci sono, quindi quelli sono i giocatori che puoi pensare di poter prendere, perché non puoi neanche prenderli. Puoi pensare di poter, facendo dei ragionamenti strani, come diceva anche lì, andare da Tevez, anche la Juve deve fare lo stesso, andare da Signores, 8 milioni, non è possibile. Guarda mister Francesca cosa ci mostra, la deadline stilata dalla Fiorentina su Jovetic, perché da Firenze dicono o il Montenegrino viene venduto entro il 30 luglio o va in ritiro. Mi pare che qui ci sia un diktat anche di Montella che dice o parto con la squadra... Io penso che, scusami, io penso che l'affare di Jovetic si è stato già fatto l'anno scorso. Vi ricordate già l'anno scorso, poi all'ultimo momento è rimasto, secondo me la promessa al giocatore è stata fatta. Si mandano a quel paese un giorno sì, un giorno anche, però c'è qualche problema. Ma il problema, no no, ma magari fra di loro si mandano veramente a quel paese. Il problema è che Lavalle ha fatto delle promesse a Jovetic, quindi è vero che poi le promesse bisogna vedere anche cosa ci sia di scritto. La tristezza che è passale è, come dire, di quella grafica che hanno appena fatto vedere, di questi quattro cavalieri dell'Apocalisse, due, Jovetic e Tevez, sono al centro delle mosse veramente sgradevoli all'interno del mercato, perché Tevez l'ha trattato per prima alla Juve. E poi c'è stato questo inserimento suadente del signor Galliani che ha detto eh però mi darebbe un po' fastidio se andasse alla Juve, così, solo per dare fastidio, no? Confermando che in Italia nemmeno a Ruba Mazzetto si riesce ad andare d'accordo, no? Non si fa mai sistema, si è sempre l'un contro l'altro schierato. Dall'altra parte, fammi finire Pradelli, dall'altra parte c'è Jovetic che è al centro di un veto per il quale i dirigenti, e questo l'ho sentito con le mie orecchie da Daniele Pradelli, non possono trattare Jovetic. Può farlo solo il signor Diego della Valle con l'acquirente eventuale che in questo momento è Agnelli, ok? Siamo a questo livello? Cioè, noi ci perdiamo in queste bazzecole, queste litigate da bar sport, mentre sopra la testa ci passano i 100 milioni per Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Bale, cioè, voglio dire, quelli ormai sono marziani del pianeta dell'imperazione. Anche in casa nostra. Ma se facessimo semplicemente cose un pochino più correttamente, forse sarebbe... Mi risulta che storicamente nel calcio ci siano sempre queste diatribe anche su un giocatore. No, ma qui non so, forse non hai letto i sottotitoli. No, no, io non leggo i sottotitoli. Non hai compreso, fratelli, che non sto parlando di diatribe. Mi sembra che favoleggi su cose molto... No, no, non sto parlando di diatribe, sto parlando di mosse che creano danni economici ad una società concorrente. Ecco di cosa sto parlando. Sono mosse, guarda, sono semplicemente mosse, per cui se una società si trova nella situazione di creare questi fantomatici danni economici, è perché la società non è in grado evidentemente di portare avanti un certo tipo di trattativa. Perché il problema fondamentale è che la Juve... Qual è delle due... Segui la Juve, qual è delle due la società che ha creato danni all'alta? Il Milan alla Juve o viceversa? Io credo che il problema sia che la Juve sul mercato estero ha dimostrato e dimostra tuttora... Il Milan alla Juve o viceversa? Tranne iorente che non è in grado... Si infrapponga in una trattativa in questa maniera? Ma c'è sempre stato... Tu continui a giustificare le persone... Ma non è che io giustifico, ma è normale che c'è... Ma scusa un attimo... Nel raggio degli omicidi dici, beh, qui si può ammazzare, ammazzano tutti... Se c'è una trattativa tra Juventus, tra la Juve e Tevez e il Milan si mette dentro dicendo una frase... E per che motivo? Per comprare Tevez o per dare fastidio? Ma anche fosse per quello, ma l'avrà fa... È corretto, è giusto... Ma non dico che è corretto... E stiamo a fai galli nel pollaio... Io dico semplicemente che la Juve non si è in grado di trattare sul mercato estero... E se ci sono dei... si fa dei problemi perché Gagliani dice una frase... Perché sono ancora più incapaci di quello che già sono... Allora, provo una profonda invidia per il ciuffo di Pradelli... Ringrazio... Ha avuto un sussulto... Un sussulto del ciuffo di Pradelli... Velocemente... Un sussulto di quel genere a un mio ciuffo avevo 12 anni... Volevo svelare un segreto a Chris... Perciò fare il poveri di città sulla gommina... No, no, no... Dai, rapidi, rapidi... Un segreto che probabilmente non lo sa... Il segreto per fare il mercato all'estero... È uno solo... È per i soldi... E quindi neanche la Juve li ha... No, non ce n'è... Non ce n'è segreti... Tu c'hai 100 milioni... Ascoltami... C'hai 100 milioni di euro... Vai e prendi chi vuoi... I soldi non ce li hai... Non vai da nessuna parte... Il segreto per... Avete fatto un grande colpo di mercato... Mentre Francesca ci mostra la notizia riguardante il Real... Ancelotti vorrebbe Suarez... Riguardo alla Gazzetta.it... Quindi questa sarebbe la chiave per liberare Higuain... Sull'asse Madrid-Torino... Medici, rapidamente... Come la vedi? Tu hai parlato prima di Del Piero... Come la vedi la maglia numero 10 sulle spalle di Arturo Vidal? Allora, se decidono di dargli la vedo bene... Ma secondo me non la danno nessuno... Non la danno... Lui però la richiesta... Sì, però probabilmente è stata una richiesta... Forse è stata più dettata dal cuore... Nel senso far capire alla Juve... Ai tifosi juventini... Visto le voci di mercato che c'erano... Che lui è juventino... Cioè ha voluto dare questo messaggio secondo me Arturo... Vediamo... Non ha fatto una richiesta... Nel vero senso della richiesta... Con il percorso di Vidal... Quando è arrivato il Cileno... Due stagioni... 35 presenze... La prima... 7 gol... La seconda... 45 presenze... Ben... 15 gol... Ha già vinto due scudetti... E una scuola per Coppa Italiana... Questo dove l'abbiamo preso? A Montebelluna? Ah no... All'estero... Ah scusa... All'estero... Mi era sfuggito anche questo... L'hanno fatto... Mi avevo sfuggito... L'hanno fatto... Dal Montebelluna mi sembrava che l'avevamo preso... 87 acquisti... Scusa... Tutti gli 4 sbagli... Era il Porto Summaga... Porto Summaga... Bravo... Poi ha fatto uno scambio col Bayern Leverkusen... L'hanno girato a noi... E all'estero... Ma ti rivelo una cosa... Sai che l'avete pagato meno di Martinez... Tra l'altro... Che forse non dimenticherai... E abbiamo fatto un'operazione molto brutta lì... Abbiamo pagato un sacco di soldi... No infatti incredibile... Quello che siete riusciti è l'eccezione... Che non conferma la regola effettivamente... Ora che ci penso... Va bene... Con queste provocazioni simpatiche... Ci lasciamo in pubblicità... Poi dopo torniamo in studio per le grafiche better... E i saluti finali... Dimenticavo... Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo... Per passare dalle coste sabbiose e frastagliate... Al suggestivo entroterra... Godersi le sue montagne anche in inverno... Farsi rapire dai sapori forti... Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo... Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa... Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria... SOMETHING'S CHANGED! SOMETHING'S CHANGED! SOMETHING'S CHANGED! My dog... My cat... My cat... My girl... My family... My world... Mi piace pensare in grande... My style... My bet... Passione italiana... Affidabilità tedesca... Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo... Per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo... Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa... Gira e rigira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria... Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano... Il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia... 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa... Dal piccolo meeting al grande evento... Lo staff del Palace Hotel Legnano e del Ristorante Alexander... Saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze... Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite... All'interno del Palace Hotel Legnano il centro benessere La Cascata... Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno... Il nostro obiettivo è libera... ...e rifasato dai . L'altro accounting' La terfaisa forse è inscrita L'altro conoscano comunicare in della stanza Che da situazione Accendi le tue passioni Entra nel mondo di Nightgate Tutte le notti Tutta la notte Da mezzanotte alle 6 Apri la porta della notte Nightgate ti aspetta Mi vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo Questi bronzi di riace mi fanno proprio girare la testa Gira di gira c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria Allora, scommettiamo con gli amici di Better.it Andiamo a vedere la proposta dei nostri amici per quanto riguarda le quote Squadre che i più attenti conoscitori sicuramente conosceranno Perché non conosci il MIPA Sfugge diciamo, Libia Togo, dai Libia Togo questo sì Io Togo Dai allora giocata 10 euro Vincita a 476 e 93 centesimi Ben so, vedi da giocarla Beh quasi quasi io senza saperne leggere e scrivere Cioè sapranno il fatto loro se ce l'hanno consigliato Anche perché a saper leggere comunque non è che cambia molto Forse scrivere ma leggere non tanto Allora, andiamo a fare una rapida rassegna dei siti web Mi avvicino a te Francesca Perché Gazzetta.it si concentra sulla Nazionale Italiana In Italia la ricetta di Chiellini Servono energie subito In vista ovviamente del debutto contro il Messico Tutto Sport, abbiamo parlato fino a poc'anzi Corsa a Duevez Il gioco di parole di Tutto Sport Tevez fedele a se stesso, doppio sì a Milan e a Juve Il Corriere dello Sport ovviamente si concentra sulla presentazione Di Rudy Garcia come allenatore della Roma Alla Roma per vincere, dice l'ex tecnico del Lille Tra l'altro curiosa, ripresa anche da Calciolab.com Nel nostro pacchini la presentazione è avvenuta praticamente via web In streaming su Youtube E poi due notizie di mercato La prima ovviamente riguarda Ambrosini Con il quale abbiamo aperto la trasmissione Parla al suo agente ancora, non l'ho offerto alla Fiorentina Ma dice il suo agente Cep Pradè interessato Hanno ricevuto, continua l'agente di Ambrosini Delle proposte sia dall'Australia Rimaste diciamo senza risposta Perché Ambrosini non ha intenzionato a trasferirsi fino in Australia E poi c'è un'offerta del West Ham in via di valutazione E poi attenzione, questa è una notizia importante Perché Regini, il difensore in forza Lempoli Ma in comproprietà con la Sampdoria Impegnato nei europei Under 21 E' stato bloccato dalla Juve Questo è un giocatore che lo si dava fatto per il Milan E invece a proposito di queste scaramucce di mercato La Juve l'avrebbe bloccato Domani sera avremo ospite qui al Campionato dei Campioni Il suo agente Cattoli E quindi potremmo proprio chiedere a lui queste evoluzioni del mercato Io ringrazio i nostri ospiti a cominciare Da Francesco Facchini Buonanotte a tutti Sabina, non mi ricordo mai il tuo nome Il tuo cognome è Bertagno Ciao, buonanotte a tutti Matteo Medici Buonanotte a tutti E Cristian Pradelli Buonanotte, buonanotte a tutti Un grazie immenso anche a Francesca Buriani Grazie a voi, grazie per averci seguiti Buonanotte A Stefano Peduzzi in coordinamento A tutti i nostri tecnici Buonanotte, ci vediamo domani alle 20.30 Su Campionato dei Campioni Anche a Willy Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti